Si dovrà attendere venerdì sera quando ci sarà la direzione provinciale del PDS Salerno per delineare quelli che saranno i punti chiave delle prossime amministrative sul territorio. Tra gli argomenti sui quali il segretario provinciale PD Nicola Landolfi focalizzerà l'attenzione sarà quello appunto delle prossime amministrative facendo una disamina di tutti i comuni dove si andrà al voto. Su Salerno spiega Landolfi decideremo tre cose innanzitutto il candidato sindaco che ufficializzeremo proprio in quell'occasione lo schema con il quale ci presenteremo cioè le liste e delineare una prima formula di coalizione in quanto oltre alle liste in qualche modo riconducibili al PD ci dovrebbero essere anche altre liste che fanno riferimento ad altri partiti della coalizione come Udc, Scelta Civica, Partito Socialista salvo verificare successivamente come si organizzerà l'area moderata perché è probabile che sia a Salerno che a Battipaglia quest'area moderata che oggi è divisa in tre partiti potrebbe fare riferimento ad un'unica lista e andare verso una definizione unitaria. Appare chiaro dunque che l'orientamento sia quello di confermare le liste di programma come da tradizione e si correrà senza simbolo del PD. Dal 97 in poi dalla primaria elezione di De Luca dunque rimarca Landolfi questo schema delle liste civiche sempre stato approvato dall'organismo deliberante rispetto alle amministrative che è la direzione provinciale e così faremo molto probabilmente anche venerdì prossimo. Nessun termo valizzatore incentivi per la raccolta differenziata. Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta regionale Campana, parla di virata rispetto alla gestione del ciclo dei rifiuti, il cui disegno di legge all'esame della Commissione Ambiente in Consiglio regionale. C'è una virata strategica nell'impostazione della gestione dei rifiuti, sottolinea Bonavitacola, rispetto al piano di gestione dei rifiuti precedenti. La Campania avrà una legge ex novo in tempi brevi. La legge regionale dell'ordino del ciclo afferma va a modificare la precedente normativa del 2014 senza efficacia. Pensiamo a una rivisitazione della normativa regionale radicale aggiunge a una legge del tutto autonoma dalle disposizioni precedenti. Nel testo di legge sono provisti incentivi alla raccolta differenziata in linea con le normative nazionali in base alle quali occorre raggiungere il 65% entro il 2020. Avremo una veste normativa solenne ed efficace, conclude Bonavitacola, coerente con le linee di indirizzo cui ci siamo dotati ad agosto scorso. Astag per un nuovo inizio è sceso in strada in Via Italia Battipaglia per sostenere la raccolta firme per l'installazione di telecamere negli asili nido. Si tratta di un'iniziativa del Dipartimento Sicurezza guidato da Stefania Greco, cui è aderito anche l'Associazione Orizzonte Comune. Un impianto di videosorveglianza difende i bambini e fa stare tranquilli i genitori. La considerazione di Stefania Greco, questo secondo me vuol dire fare politica, azioni concrete a beneficio della collettività e di Vincenzo Inverso siamo sicuramente concordi su questo punto. In visita al gazebo anche il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Gioacchino Alfano, per confermare il suo sostegno e quello di NCD al progetto Astag per un nuovo inizio alla candidatura di Inverso, Sindaco di Battipaglia. Nell'epoca dei gazebo dove ognuno cerca di testimoniare le sue missioni in piazza, farne uno sulla sicurezza credo che sia il messaggio più forte. In una città importante Inverso si è assunto la responsabilità di interessarsi di Battipaglia in modo completo. È un uomo molto esperto, che conosce bene il territorio e anche molto esperto nei rapporti romani e regionali, quindi parte da un tema che lo classifica sicuramente, che qua facciamo le cose serie. Bisogna dirlo perché Battipaglia, per noi poi della Campania, io sono di un comune della provincia di Napoli, per noi della Campania Battipaglia è una zona di riferimento importante, quindi credo che da questo pilastro possiamo costruire, edificare una squadra che può ben fare a Battipaglia. Ripeto, non è la retorica delle cose che a volte si dicono. Io sono un campano, so quanto è importante garantire la legalità e sicurezza di un territorio. Poi la raccolta delle firme è un metodo, uno deve avere il coraggio di fermarsi, di chiacchierare con chi c'è e di sottoscrivere alla condivisione di questo tema. Io sono la difesa, mi ho fatto il sindaco dieci anni. La domanda che mi faccio è se la sicurezza viene prima, viene dopo, come si realizza? La sicurezza è l'investimento iniziale, come se fosse la base su cui tu poi costruisci un edificio. Quindi se tu non dai sicurezza a un territorio non puoi aspettarti molto. La firma è un modo per dire che uno ci crede veramente, non è soltanto una dichiarazione verbale. Le indagini preliminari non sono state svolte in maniera corretta e completa per il buon esito del processo. È solo uno dei passaggi della requisitoria del PM Vincenzo Montemurro nell'udienza del processo riguardante la realizzazione mai avvenuta del SIPARC di Salerno, il parco marino a tema, che vede sul banco degli imputati, con l'accusa di associazione per delinquere, abuso e truffa, l'attuale presidente dell'Aggiunta Regione della Campania, Vincenzo De Luca, l'ex sindaco di Salerno De Biase, funzioniere tecnici, comunali e imprenditori. Il PM Montemurro si è soffermato sulla impossibilità di utilizzare anche le intercettazioni telefoniche. O le intercettazioni non si facevano, ha detto, si facevano secondo legge. De Luca all'epoca dei fatti era parlamentare e non poteva essere intercettato se non dopo precise autorizzazioni. Le intercettazioni furono fatte proprie senza questi requisiti, perciò furono distrutte. Da quanto emerso dall'ampia introduzione della pubblica accusa davanti ai giudici della seconda sezione del Tribunale di Salerno, si sgonfia anche l'accusa per gli imputati, per associazione, per delinquere. Ma, come ha tenuto a sottolineare il PM, soltanto nel proseguo della requisitoria si potrà scendere nei dettagli degli altri capi di imputazione. La prossima udienza è fissata per il 19 aprile.